Garavini, Miotto, votato? Fabri, siamo? Ditemi voi, eh? Qui? Savino, non so, io da qui non la vedo perché copre il ecco. Bene, votato, d'accordo, la votazione è chiusa. Favorevoli 324, contrari 14, la Camera approva. Andiamo all'articolo 20, relatrice, il 20.1. 21, Rondini, contrario. Bene, anche qui essendo soppressivo il Governo? Contrario, Presidente. Contrario, votiamo il mantenimento dell'articolo 20. Votazione aperta. Pannarale. Pannarale. Arlotti. Arlotti. Businarolo. Businarolo. Abrignani. Avrignani. Anche Dieni. Dieni. Allora, votato? Ci siamo? Sì. Votazione è chiusa. Favorevoli 332, contrari 14, la Camera approva. Allora, adesso andiamo a votare l'articolo 21, perché il 21.1 è precluso dal 12.200, quindi dichiaro aperta la votazione all'articolo 21. No, sì. Allora, Albanella ha votato. Bene. Chi altro? Ci siamo, no? La votazione è chiusa. Favorevoli 278, contrari 13, la Camera approva. Allora, adesso c'era il deputato...